bene a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video in the raffi oggi siamo su code of war e andremo a fare qualche battaglia per vedere come vado se mai aprirò una serie allora io farei un deposito sicuri ho caricato il video dei mondiali dell'inizio dei mondiali solo che mi hanno dato un copyright quindi ho lasciato il link in descrizione su un altro video che dicevo che youtube era una merda però ha più che ragione e stavo dicendo che in quel video usavo un microfono di merda ora l'ho migliorato il pezzo di macchina vieni il pezzo di macchina vieni vamo 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 si ti muovi e vabbè ci sta parola ci sta poi ci avevano già ferite prima io ho fatto un cantono che mi vede proprio felice ok No vabbè è impossibile usare il vinto No ma è morto, meno male è morto perché se non c'è non muoreva più Scegliamoci Ok ora possiamo andare a combattere I jaco dove è quel pezzo di un minuto Ok Salute recuperata Vabbè oh si sta vincendo tantissimo cioè Si sta vincendo Si sta vincendo Si sta vincendo Vabbè perché ho anche una valigetta Ma perché mi rubi sempre l'equile mercurio Non mi rubo sempre l'equile Non mi rubo sempre l'equile Si sta vincendo la mia Non ci zucca Non ci zucca Non ci zucca Non ci zucca Se mi rubi la chia E io parlo Non ci zucca Ok Non ci zucca Non ci zucca Non ci zucca Non ci zucca non c'è nessuno da uccidere col binotto ma tanto sarà impossibile eccolo la chile è mia sono morto si pam ma non ho ucciso nessuno l'ho ucciso non ci credo mai nella vita l'ho ucciso non ci credo no sono morto qua l'ho ucciso ma non mi hanno detto l'ho ucciso da maniare Vabbè, io butto la granata. No, la granata non è esplosa. Natale conto, ma anche Natale? Nooo, Gesù Barattolo, la seconda morte, no, terza, però quattro uccisi ragazzi siamo qui. Ok ragazzi, il video di qui spero che vi sia piaciuto, noi ci rivediamo con un altro bellissimo video e bella raga. Grazie.